Ci troviamo a Monteperone, nella zona dove si viene a fare il picnic, dove si viene per il primo omaggio e devo dire che l'Unione dei Comuni ha fatto pulire questa zona che è veramente uno spettacolo. Io cercherò di farvi vedere con l'immagine quello che è stato fatto. Non abbiamo un filmato per farvi vedere come era prima, però abbiamo delle foto e le inseriamo in questo punto per farvi vedere come è cambiata la situazione. Ma veramente merita un plauso perché non avevo mai visto una zona, neanche in altre parti, pulita in ordine come questa. Gli operai stanno ancora pulendo lecci come le potano, come potassero le viti proprio. Hanno poi messo altre piante, piante di frutto che servono poi per gli uccelli, delle cidiegie, dei sorbi. Ma quello che più mi affascina è il fatto che hanno messo delle nuove panchine con dei tavoli proprio per farci il solito pranzetto sotto gli alberi. Sono stati eliminati parte di quei pini che erano pericolanti. E' stato fatto delle palizzate proprio da dove non si può entrare con le macchine, mentre tutta questa zona che vediamo davanti qui a noi, questa zona è tutta una zona dove si potrà posteggiare. Però una volta entravano con le macchine in tutte le parti, le macchine devono essere messe per bene, pertanto ci sarà questa possibilità. Ovviamente ci sono i cartelli dove non sarà possibile oltrepassare questa zona perché sono piste antincendio, piste forestali, pertanto non ci potrà entrare nessuno. Basta guardare sotto queste piante, c'è un pratino all'inglese proprio, naturale però, è una cosa veramente bella. Qui con me c'è Domenico Giove che ha diretto in sostanza questi lavori attraverso l'Unione dei Comuni. Sentiamo quali sono state le difficoltà e come sono stati affrontati questi lavori. Difficoltà, diciamo, noi sono molti anni che ormai ci impegniamo nella manutenzione di quest'area del Monte Perone perché, come hai già ben spiegato bene, è un'area molto ricca a valenza turistica. È un'area in cui gli escursionistici, quasi tutti, passano perché interessa quel tratto della GTE che collega il cavo con Pomonte. E quindi noi quest'anno, grazie appunto a alcuni finanziamenti regionali, siamo riusciti a recuperare cose che erano state già fatte inizialmente, ma oggi stanno dando il loro vero sviluppo. Ma il successo che stiamo cominciando ad avere, ed è questa la cosa bella, che man mano stiamo facendo la riconversione, stiamo pian piano sostituendo a questi pini i lecci, quella pianta tipica così apprezzata del nostro territorio mediterraneo. E ora possiamo lasciare proprio alla popolazione un territorio che speriamo sia continuato a essere mantenuto così come noi l'abbiamo fatto finora. Bene, invito tutti a venire a fare una passeggiata qui a Monte Perone e anche un appuntamento a tutti per il primo maggio. Io ci sarò senz'altro perché questa zona è la zona più bella che esiste. Mi faccio una domanda comunque, ma visto che questo lavoro è stato fatto dall'Unione dei Comuni, se l'Unione dei Comuni non ci sarà più, chi è che farà questo lavoro?